Questo non va bene, non va bene, questo non è naturale, nel momento che io vado avanti, faccio questo, spalla, braccio, dobbiamo lavorare assieme, non io avanti la spalla dietro, va bene, un corpo che si oppone alla spalla che è dietro di un corpo, la spalla si danneggia, io vado avanti con questo movimento. o se non voglio spostare, questo movimento, andrò mai la spalla dietro, seconda cosa, braccio al fianco, non qua, ma verso il corpo dell'avversario, verso il corpo dell'avversario, contengo il corpo dell'avversario allontano, allontano e, e guardare, colpisce, 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 colpisce. Dunque, vicino al corpo dell'avversario, qua non conta niente, fa solo base, solo base, giunti di base, poi nel momento che pratico, questo è importante, colpisce, 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 colpisce. colpisce, 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 col